Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare nuovamente del plugin Adobe Flash Player. Dico nuovamente perché più o meno sei mesi fa, come vedete qui sul mio canale, avevo già parlato del plugin Flash di Adobe nell'ambito di un problema e esattamente di quello dei colori naturali, cioè quando si vedono i video riprodotti dal plugin Flash con dei colori appunto innaturali, tipo tutto sul blu, vuol dire che c'è un problema che deve essere risolto. E questo appunto accadeva sei mesi fa. Oggi torno a parlarvi dello stesso plugin che ripeto, come ho detto all'inizio, croce delizia perché come saprete la ditta, l'azienda che sviluppa questo plugin, questo Flash Player Adobe, non si degna più di tenere aggiornato il plugin per il mondo Linux. Quindi per noi è appunto una croce delizia perché funziona bene quando funziona e dà dei problemi quando dà dei problemi. Uno dei problemi è appunto quello dei colori, dei possibili colori innaturali, di cui appunto ho già parlato nell'altro video che avete visto e un altro problema assai fastidioso, non meno di quello dei colori, è questo. Ecco qui ho aperto un video che viene riprodotto appunto col plugin di Adobe, un video qualsiasi, in questo caso è un video di un canale al quale sono iscritto in lingua inglese, però è uguale. A me bastava avere un video YouTube che venisse riprodotto con il Flash e se si fa tasto destro nell'area del video lo si vede che sta usando il Flash e non l'HTML5 per esempio. Ecco, comunque, dicevo, un altro problema fastidioso oltre a quello dei colori è quello delle impostazioni. Se io faccio tasto destro e visualizzo le impostazioni, viene fuori questa finestrella che penso che conoscano tutti, sia sotto Windows, Mac, qualsiasi sistema operativo, è sempre quella, no? Visto che il plugin è sempre quello. Questa qui è la classica finestrella. Cos'è il problema sotto Linux? Che qualsiasi parte io clicco con il mouse, vedete mi sto spostando e faccio clic, non reagisce, è come se non esistesse questa finestrella. In questo momento è tutto, è bloccato, non riesco a togliermela dai piedi questa finestrella perché con il mouse non interagisce. Questo è un problema fastidioso perché io non posso impostare, al volo per questo video, per questo sito di video, le impostazioni che voglio. Non posso passare da una scheda all'altra qua sotto, niente. Per chiuderlo, per sbloccare la situazione, devo andare con il tabulatore della tastiera. Vedete che si colora di giallo dove ha il fuoco, come si dice in gergo, oppure dove è in evidenza, la parte di finestra è in evidenza, è attiva, prende un contorno giallo, quindi io vado avanti col mio tabulatore, finché non arrivo, indovinate un po', sul pulsante chiudi, poi sempre con la tastiera perché il mouse, come se non esistesse, faccio enter e si chiude. Una possibilità per evitare questo problema, per aggirarlo, ecco il workaround come si dice in inglese, per aggirare questo problema è ingrandire tutto schermo, rifare la stessa cosa, quando si decide ad uscire, ecco, rifare la stessa cosa, e vedete che in questo momento già cambia la gestione della finestrella, vedete che passare sul mouse gli oggetti reagiscono, vedete che io posso passare da una scheda all'altra, insomma, reagisce, schiaccio su chiudi con il mouse e reagisce, ecco. Non chiedetemi il perché di questo comportamento, è un noto bug, un noto problema del plugin di Adobe, ma come ho detto all'inizio del video, siccome Adobe non si degna più di aggiustare un bel nulla, ce lo dobbiamo tenere così, e però, insomma, l'aggiramento del problema, bisogna ingrandire la finestra, però non sempre viene subito in mente di dover far così, è fastidioso, e magari si fanno impostazioni e ci si trova bloccati. Ecco, lo scopo di questo video è mostrarvi un modo per gestire queste impostazioni senza trovarsi in questa noiosa e fastidiosa situazione. Cos'è questo modo? Semplice, basta saperlo, oddio, semplice, c'è un sito, un indirizzo internet, che è questo, che vi lascerò nella descrizione del video, grazie al quale voi accedete alle impostazioni del vostro plugin direttamente dal web. Ecco, magari tanti di voi già lo sanno questa cosa, io non lo so quanto sia nota o meno, ne approfitto di questo video per presentarvelo, così finalmente lo saprete sia personalmente io, sia voi, e lo sapremo, ed è documentato in questo video. Ecco, vedete, è in inglese, ormai, vabbè, questo, l'ho detto tante volte che la lingua franca della rete è l'inglese, è la più diffusa, e anche questa volta siamo in inglese. Potrei fare una prova, vedere se esce anche in italiano, perché vedo che qui nell'indirizzo internet c'è la lingua inglese, io provo a mettere it, vediamo cosa succede, lo sto provando, ah, ecco, voilà, c'è anche in italiano, guardate un po', prima di iniziare il video non ci avevo pensato, mi è venuto in mente adesso di provare, ok, c'è questo sito che, torno a ripetere, vi lascerò magari entrambi gli indirizzi, quello originale inglese di riferimento, e questo in italiano tradotto, con la gestione delle impostazioni, ecco, che sono poi, come vedremo fa un attimo, proprio simili a queste, la differenza è che qui non c'è nulla di bloccato, e si può andare tranquillamente ad impostare il nostro plugin, e le impostazioni sono memorizzate e conservate. Allora, qui sulla sinistra, ci sono tutti i link delle singole impostazioni, quindi, vedete che se io schiaccio per esempio il primo link qui, si apre una finestra che è molto simile, come vedete nella grafica, vedete qui le iconcine qui in basso, delle varie schede delle impostazioni, vedete che qui riprende un po' quella grafica, è molto simile, eh? Ecco, questa non è una semplice immagine, ma è un'immagine viva, cioè come fosse una finestra di impostazioni, lo dice anche sotto qui con la nota, il pannello di gestione delle impostazioni, ve lo usato qui sopra, non è una semplice immagine, ma è lo strumento di gestione delle impostazioni vero e proprio, ecco, quindi non fatevi ingannare, non è una pagina web con uno screenshot, ma è, questo reagisce veramente il click del mouse, ecco, quindi ho cliccato sulla sinistra, pannello impostazioni generali della privacy, e qui mi è uscita questa prima scheda, si può anche cliccare le schedine qua sopra, vedete c'è anche il giallino che aiuta sempre a dire cosa si sta facendo, se io faccio clic qua, impostazioni generali della memorizzazione, è come se avessi fatto clic su questo link a sinistra, quindi è uguale, o scorrete tutte le opzioni qui a sinistra ad uno ad uno, o fate clic sulle schedine qua sopra, ecco, comunque, il vantaggio cos'è che qui non c'è niente di bloccato, come potrebbe essere bloccato qua, quindi voi potete tranquillamente impostare il vostro plugin da questo sito internet di Adobe, allora, vedete che qui c'è un po' di tutto, impostazione e memorizzazione, quanta cache devono ottenere i video, poi cose più interessanti, magari più in là, ecco questo, impostazione globale di sicurezza, consentire o no ai siti web di interagire col plugin, poi leggetevi, naturalmente non passiamo tutto in dettaglio in questo video, se no non finiamo più, leggetevi con calma, già che oltretutto abbiamo scovato anche il sito in italiano, leggetevi con calma quanto dicono sulle varie opzioni, impostate ciò che volete, appena fate click lui lo accetta, vedete non c'è un salva, appena fate un click è quella l'opzione che attiva, quindi andiamo avanti, la prossima schedina che è riproduzione del contenuto protetto, siamo arrivati da qualche parte qui, ecco contenuto protetto, siamo arrivati per esempio al link qui sulla sinistra, ecco qui, se non so quanti di voi hanno delle licenze, io no per esempio, in questo ambito non ho nulla, non so quanti di voi hanno delle licenze per visualizzare in YouTube dei contenuti protetti, ma non lo so, comunque c'è anche questa scheda, poi questa col monitor e l'occhio, che forse è la più usata, almeno per me è quella che ha più importanza, è quella della webcam, che sarebbe poi la gestione questa, quella che viene fuori con le impostazioni, vedete il monitor col occhio, quindi consentire, se fosse un sito con un oggetto gestito in flash, che gestisce la registrazione con la webcam, come è il caso anche su YouTube, qui potete impostare sito per sito che avete visitato, vedete lui li tiene memorizzati, questi sono tutti i siti che io, in un modo o nell'altro, un giorno o l'altro, ci sono passato, e questi sono siti che prevedono, probabilmente tutti, in una forma o nell'altra, la possibilità di gestire anche la webcam, attraverso il plugin di flash, ecco vedete per esempio questo, quello di YouTube, che è proprio questo, s.ytmg.com, è impostato su consenti, quindi qualora c'è la funzionalità della webcam, mi consente di accenderla, e di poter registrare con essa, e vedete che in effetti qui è impostato, l'ho impostato a vistino consenti, per ogni sito io posso scegliere di chiederlo, vuoi o non vuoi attivare la webcam, di negarlo sempre, quindi di impedirlo, oppure di consentirlo, io vabbè ho deciso di consentirlo, e voi potete scegliere sito per sito, se incontrate un sito che vi dà problemi, gioco di parole, non fatevi problemi, visitatelo, questo sito, fate in modo che il vostro plugin memorizzi, che siete passati da lì, entrate qui nelle impostazioni, e gestite cosa si può fare con quel sito che avete visitato, cliccate sul rispettivo link, e decidete cosa si può fare con la webcam, poi qua, andiamo avanti, Impostazione e memorizzazione dei siti, qui si parla ancora di cache, cioè di, per difetto sono 100 KB per ogni sito, che vengono tenuti in cache, che poi questa cache, credo io sia quella che, con gli strumenti di pulizia del sistema, può essere anche ripulito ogni volta, questo, per velocizzare un po' la visualizzazione dei siti, poi in ultimo, questo con i due omini, è connettività peer to peer, cioè la connettività, fra due pari, fra due persone, attraverso le funzionalità del plugin Flash, io non ho mai avuto occasione di usare questa funzionalità, comunque anche qui, un po' come per la webcam, si può scegliere se chiedere, consentire, negare, ho lasciato per difetto di chiedere sempre, ecco, comunque, non erano tanto le opzioni in quanto tali, lo scopo di questo video, ma il mostrarvi che c'è un sito, che vi permette comodamente, di gestire tutto quanto, può fare il plugin Flash sul vostro PC, invece di imbattervi in problemi come questi, che poi vi bloccano per problemi del plugin, che non è tutt'altro che perfetto, e che sappiamo già che non verrà più corretto da Adobe, quindi per gestire in modo più pratico, credo e confortevole, è meglio, secondo me, può essere più comodo, passare attraverso questo sito, che appunto vi lascerò, nella descrizione del video, spero sia stato un suggerimento utile, provatelo, vedete voi stessi, che situazione vi trovate con il vostro plugin, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, un saluto, e alla prossima, ciao ciao!